Immigrazione ed integrazione, termini spesso accostati e nella realtà quotidiana assolutamente distanti. Partiamo da un punto di partenza importante. Solo nella città di Chieti i dati parlano di 2.000 cittadini stranieri residenti. Se calcoliamo quelli non ufficiali, raddoppiamo le cifre. È importante parlare di immigrazione. Per noi, CVM e Caritas, è importante parlare di integrazione. Immigrazione ed integrazione è il titolo del convegno che si trarà a Chieti domani pomeriggio alle 16 presso l'auditorium Cianfarani, ad organizzarlo il Comitato Volontari per il Mondo, ONG da 20 anni, che promuove la cultura dell'integrazione nelle scuole, la Caritas, insieme al Centro Interculturale di Chieti Scalo e il Centro Servizi Immigrati del Comune. Questo convegno nasce dall'idea e dalla volontà di mettere intorno ad un tavolo tutti i principali attori del fenomeno immigrazione, dalle istituzioni, all'università, alle forze di pubblica sicurezza e alla politica, per cercare di dare risposte concrete ad una problematica che interessa la nostra società attraverso un confronto sincero e aperto in un mondo nel quale la pluralità e l'integrazione fra popoli e razze sta diventando un fenomeno che coinvolge sempre di più tutti quanti noi.